Abbiamo un problema, qui c'è un problema che i cittadini lamentano da circa 11 anni, da quando una frana ha ostruito la strada per quasi 30-40 metri. Negli anni ci sono succedute tante promesse ma la strada è ancora chiusa, i disagi per i residenti sono tantissimi e anche per le attività che insistono su questo territorio. Le lamentele sono tantissime e da anni appunto vanno avanti. Io ho presentato un'interpellanza per chiedere al Comune di Pesaro, all'amministrazione, qual è l'intenzione su questa strada perché i residenti tutti i giorni appunto da quasi 11 anni sono costretti a percorrere 8 chilometri, 600 metri, li abbiamo calcolati sia in bicicletta che a piedi. In più rispetto alla strada normale, quindi con molti disagi sia per l'andata al lavoro e il ritorno, passando in strade molto più lunghe, allungando il percorso e creando quindi molti disagi ai residenti e anche alle attività economiche perché su questa strada insistono anche attività economiche che hanno clienti che devono raggiungere le strutture e quindi si creano tante difficoltà.